Gesù di Nazare, sovvillatore del popolo, accusato di proclamarsi re dei giudei, sarà processato in piazza dal governatore romano, Fonzio Pirato. Distribuita o tra voi, benedettone secoli, Signore Dio dell'Universo, che fa nascere il pane dalla terra. Benedettone secoli, Signore Dio dell'Universo, che fai nascere dalla terra il frutto della vita. Io sono l'agnello, ed ora in poi farete questo in mia memoria. Chi di noi ti tradirà? Forse io. Ma come? Tu vuoi che io... Fa quello che devi fare. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Grazie. Grazie a tutti. Non mi interessano le loro questioni religiose. Incita il popolo alla ribellione e a non pagare il tributo all'imperatore. Gesù figlio di Giuseppe, i tuoi sacerdoti ti hanno condotto a me con l'accusa di sedizione. E quale sarebbe la verità? Difenditi. E' condannato ad essere crocifisso. Oh! 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 Lui, lui ha soltanto predicato la pace, oggi stesso sarei con me. Nelle tue mani, io rimetto il mio spirito, tutto, tutto è compiuto. Grazie a tutti.